Se la terra vuoi mangiare, col carraro lo devi fare, se la terra vuoi mangiare, col carraro lo devi fare. No, l'è. Gernardo, aspetta, questo è un silenzio, aspetta. Poi di me la mano che è strato e lo trattore. Buongiorno, sono capito, buongiorno. Buongiorno. Senti, io volevo acquistare un trattore nuovo. Eh, c'ho questa circosizione. Ma questo è troppo piccolo per me. No, ma va bene. Questo fa il lavoro di un centenario. Ah, lo posso acquistare? Sì, sì. Può provare come sta per una natura? Posso anche provarlo? Sì, sì, sì. Sì, sì, grazie. Ma è bello. Eh, ma mette, perché qua ci state bene? Ma per caso l'ha preso alla Fortunale. Scusi, quanto costa? 25 euro. Oh, ma parto pure un ballante. non sussudava però è andato via